buongiorno e bentornati al podcast di una domanda al giorno toglie il concorso di torno l'unico podcast che ti fa studiare ascoltandolo partiamo con la lezione di oggi prima però vi chiediamo di mettere mi piace alla nostra pagina facebook e di condividere con i vostri contatti e soprattutto con i vostri colleghi il nostro podcast vi ricordiamo inoltre che potete trovarci su spotify spreaker soundcloud google podcast e infine sui vostri dispositivi amazon alexa pronunciando la frase alexa apri podcast domande detto questo partiamo con l'argomento di oggi terminiamo oggi la panoramica di leggi importanti per tutte le professioni sanitarie oggi infatti parleremo di leggi di carattere sociale e di tutela verso chi è curato e di chi cura le quali vanno a completare il quadro normativo che definisce l'organizzazione sanitaria in tutti i suoi aspetti del nostro paese iniziamo parlando della legge 104 la legge 104 del 1992 fino ad ora ho elencato delle leggi che riguardano la riforma del sistema sanitario in sede ed esame potrebbero tuttavia chiederti delle leggi che interessano l'ambito sociale tra queste ti ricordo la famosa legge numero 104 del 1992 ovvero legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata questa legge rivoluzionaria si rivolge alle persone che presentano una minorazione fisica psichica sensoriale o che causi difficoltà di apprendimento di relazione e integrazione lo scopo è quello di garantire a questi utenti i seguenti diritti uno punto diritto alle cure e alla riabilitazione due punto diritto all'educazione e all'istruzione tre punto diritto al lavoro e all'integrazione lavorativa quattro punto eliminazione barriere architettoniche parliamo ora di una legge emanata nel 1978 la legge basaglia quando studi per un esame uss ricorda la legge numero 180 del 13 maggio 1978 meglio conosciuta come legge basaglia dal nome dello psichiatra veneto promotore della riforma si tratta di una riforma che ha totalmente rivoluzionato il modo di rapportarsi con la persona affetta da disturbi mentali considerata da sempre una minaccia per la società per i malati di mente l'unico campo di intervento si limitava al contenimento e all'emarginazione dalla società luoghi adibiti a tale trattamento erano i manicomi strutture spesso fatiscenti delimitate da campi con fili spinati la legge 180 è passata alla storia per 1 punto aver imposto la chiusura dei manicomi 2 punto aver restituito maggiore dignità al paziente psichiatrico 3 punto aver riconosciuto al paziente psichiatrico il diritto alla salute e alla cura con interventi di riabilitazione 4 punto aver istituito il tso trattamento sanitario obbligatorio poi regolato dalla legge 833 del 1978 parlando invece della tutela della privacy dobbiamo parlare del decreto legislativo numero 196 del 2003 questa norma interviene a tutelare appunto la privacy dei pazienti essa si basa su un principio fondamentale il rispetto assoluto della dignità della persona in ambito sanitario qualsiasi attività di raccolta registrazione comunicazione e divulgazione dei dati di un paziente deve avvenire con la dovuta riservatezza infine parliamo di testo unico sulla salute e sulla sicurezza dei laboratori se stai preparando un esame per oss ti consiglio di studiare bene la legge numero 81 del 2008 il testo unico sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori questa normativa che sostituisce la vecchia 626 del 1994 introduce delle regole delle procedure e delle misure finalizzate a migliorare lo stato di sicurezza dei luoghi di lavoro l'obiettivo della legge è quello di eliminare o comunque limitare il più possibile la percentuale di rischio legato all'attività professionale come incidenti o malattie professionali la legge stabilisce una serie di obblighi per il datore di lavoro finalizzata a garantire la sicurezza del luogo di lavoro e preservare la salute dei lavoratori dopo aver ascoltato questa audio lezione vi saluto e vi invito a condividere con i nostri colleghi i podcast e tutto il materiale che condividiamo sulla nostra pagina facebook invitandoli a unirsi alla nostra community un saluto da una domanda al giorno toglie il concorso di torno alla prossima audio lezione